Uno scambio di esperienze di governo fra i rappresentanti delle regioni Umbria e Marche è un confronto con la platea degli operatori sociali e delle associazioni di volontariato. Questo l'obiettivo dei due presidenti delle commissioni regionali Sanità e Sociale, Attilio Solinas e Fabrizio Volpini per De Marche, che hanno organizzato la conferenza interregionale svoltasi a Palazzo Cesaroni sul tema non autosufficienza modelli assistenziali a confronto. È emerso che le famiglie si stanno sobbarcando la gran parte dell'assistenza alle persone non autosufficienti. È necessario costruire una rete di sostegno per queste pratiche, oltre a maggiori investimenti. L'Umbria destina 4 milioni di euro al settore, cui vanno aggiunte le risorse statali e quelle della programmazione comunitaria. Stai leggendo che c'è un confronto importante, costruttivo, profiguo per tutte e due le regioni. C'è stata un'analisi dettagliata da entrambe le parti della situazione dello Stato dell'Arte, soprattutto delle prospettive anche in termini di organizzazione e miglioramento della presa in carico delle persone con non autosufficienza e in merito anche alla sostenibilità economica. Questa iniziativa di oggi che si inserisce all'interno di un percorso che dovrà avere anche ulteriori tappe, di mettere insieme a confronto esperienze su temi specifici. Oggi è quello della non autosufficienza, ne individueremo anche altri per il futuro, proprio per cercare di costruire, come si diceva prima, dal basso anche forme di collaborazione tra regioni che hanno una caratteristica che è quella di essere non solo confinanti, ma io credo anche che hanno una storia culturale quasi simile. Nonostante le politiche della regione sembra guardino ad altro, ha detto il consigliere regionale Sergio De Vincenzi, che della Commissione Sanità e Sociale è anche vicepresidente, sento ribadire da tutti che il ruolo delle famiglie è imprescindibile. Mi auguro che di questo si tenga sempre conto nell'elaborazione delle politiche regionali. Anche la regione Umbria soffre dell'invecchiamento della popolazione, ha ribadito la consigliera del Partito Democratico Carla Casciari. Ci siamo mossi, ha detto con l'istituzione dell'osservatorio, che ha garantito un confronto tra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato. La regione ha impegnato ingenti risorse del Fondo Sociale Europeo per l'inclusione sociale. Dagli interventi dei rappresentanti del volontariato e del privato sociale è emersa la richiesta di valorizzare i percorsi familiari. Serve una spinta alla domiciliarità e una residenzialità di qualità, non puntare sugli ospedali. Con l'assistenza domiciliare anche nei giorni festivi si eviterebbero molti ricoveri. Servono anche formazione e informazione per gli operatori del pronto soccorso. Per il direttore generale della Sanità Umbra, Walter Orlandi, è importante la sinergia fra Marche Umbria e nel discorso macro-regioni bisognerà prendere in considerazione, ha detto anche la Toscana. Occorre mettere in rete i servizi sociali con quelli sanitari, potenziare la medicina del territorio, ma anche svolgere un'adeguata politica per l'invecchiamento attivo, per far sì che gli anziani siano una risorsa e non un problema.